Quando vivevo in Australia ho trascorso un periodo di un paio di anni a Freemantle, l'unwest in Australia, una cittadina da 25 km a sud da Perth, sulla zona di mare. Ed è molto famosa per noi italiani perché quando le navi lasciavano l'Inghilterra e imbarcavano gli immigrati in Italia, trascorrevano due mesi in mare per poi raggiungere Freemantle. Quindi Freemantle ha anche una, diciamo, Little Italy, una comunità italiana che risale anche prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi adesso man mano sta diminuendo il numero, però c'è questa cosa qua, lo storico proprio, che rende molto particolare la cittadina. Vivevo là tranquillamente, avevo comprato un tablet e cosa facevo? La sera, come tanti altri ragazzi, backpackers, altri viaggiatori, usufruivo della wifi libera, dell'internet libero che c'era in piazza. Mi collegavo là, facevo le mie robe, mi rilassavo, giocavo, curiosavo, facevo. Una sera, e una sera ho beccato una situazione molto particolare. Mi si avvicina un ragazzo, mi chiede un aborigine, mi chiede una sigaretta, ho detto qua, gliela do. Dopo un po' comincia ad attaccare un pippone enorme sul discorso che siete qua, rubate la mia energia elettrica, usurpatori del territorio, tutte robe negative, no? Lui stava buttando su di me frustrazioni sue, e a un certo punto cosa fa? Prova a prendermi il tablet. Io reagisco, ma non riesco a tenere il cavo che era collegato a una presa esterna che venivano date tranquillamente, no? Totalmente funzionante. A chiunque voleva utilizzare il computer, là, se tessi c'erano proprio i tavoli, c'era tutto, ragazzi. Era per una comodità, era comune che aveva organizzato questa cosa qua. Lui riesce a prendere la mia presa e me la spacca. Il tablet lo riesco a salvare. Questa situazione qua di aggressioni da parte aborigini è capitata molto spesso, anche negli ultimi anni. E sono sempre presi di mire i turisti, perché? Un po' la lingua ha difficoltà di parlare l'inglese, un po' la polizia dice sono problemi tuoi, perché, cioè, noi possiamo intervenire, ma è relativo, cioè, tu... Un po' non ti stanno più di tanto dietro, perché il discorso è così, è come se tu ti stessi andato a cercare la situazione. Infatti c'era sempre l'attenzione quando andate in spiaggia di notte, l'attenzione quando volete appartarvi con la fidanzatina, un po' in zone buie, perché loro a volte seguono gli stranieri, a volte vanno a caccia di stranieri, perché per loro è più facile attaccarli. E questo è un consiglio, che io vi parlo di una cosa che è successa tantissimi anni fa, eh, ma di attuale e tuttora adesso. C'è una situazione di genere, infatti quella sera io, uno dei posti più che a me facevano paura, era proprio la zona esterna della stazione di perda, perché era piena di stili di aborigini, piena di gente, un po' tutta quando è strana. Qua in Giappone questo problema non ce l'ho, non ho nove anni quasi che vivo qua, mai avuto situazioni del genere, mai ho dovuto preoccuparmi se ho telefono in mano, se riprendo, se ho soldi, se apri il portafoglio. Non ho mai avuto problemi di un'aggressione, di una paura che qualcosa mi potesse succedere. Ecco, molti mi dicono, Giovanni, a volte tu fai sempre esempio con l'Italia, no, ho trascosto tre anni e mezzo in Australia e posso garantirvi che non mi sono mai sedito al 100% sicuro in Australia. mai, quando uscivo la sera, c'era sempre questa cosa che ti stavi sempre su chi va là, non ti sentivi mai sicuro. Qua in Giappone mai ho avuto problemi, ho fatto serato, ho fatto uscito, zero. A proposito di discoteche locali, ho avuto una scheramuccia e l'ho raccontato in un video. La situazione che può capitare, sei sfortunato, becchi la testa calda, ma quella becchi ovunque, non è che se sei là, posto sbagliato, momento sbagliato, ti becchi il soggetto e cerchi di darti fastidio. La mia di Massimo, mai ho avuto problemi. In Australia vedevo gente ammanettata e rissero tutti i fine settimana. C'era un casino di polizia tutti i fine settimana. Diventavano un passatempo guardare la gente che veniva arrestata per strada. Sembra strana sta cosa, ma diventava un passatempo. Ti fumavi, all'epoca fumavo la sigaretta, ti fumavano la sigaretta e guardavi quelli che venivano arrestati la polizia. Pensa tu. Questo è, è quello che il Giappone per me lo ritengo proprio uno dei posti più tranquilli al mondo. Voi cosa ne pensate? Vi mando un bacio. Il Toast mi chiama, mi spacco un toast. Ciao, ciao.